Buongiorno. La Parashah di questa settimana vaierà. Racconta la storia di Abramo quando stava per sacrificare suo figlio Isacco al comando di Dio come prova di fede. La Torah dice in Genesi, Dio misse alla prova Abramo e gli disse, Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio, quello che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo procede come detto, ma all'ultimo minuto Dio lo ferma prima che abbia il tempo di uccidere Isacco. Questa è una storia strana e inquietante. Si chiama hakedà o legatura di Isacco. Solleva molte domande. Non vi è alcun altro riferimento ad essa nella Bibbia? Perché se è un momento così determinante nell'ebraismo? Non ci sono lezioni legate specificamente all'Akedà. La storia è semplicemente là. Cosa dovremmo farne? Innanzitutto, ci viene detto che Dio ha messo alla prova Abramo. Quindi chiediamo, Abramo ha superato questa prova? La risposta tradizionale è ovviamente sì. La Torah dice, cito, E Dio disse ad Abramo, non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente di male, perché ora so che tu temi Dio e non mi ha rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio. Quindi, poiché Abramo era disposto a sacrificare ciò che amava di più, in segno di sottomissione alla volontà di Dio, in segno di fede, doveva aver superato la prova. Ma ci sono indizi nella nostra tradizione che suggeriscono che per alcuni aspetti Abramo ha fallito la prova. Primo, non ha fatto domande, non ha protestato. In precedenza, nella Torah, vediamo Abramo sostenere strenuamente che Sodoma non dovrebbe essere distrutta e estrarre una promessa da Dio che non distruggerà Sodoma se lì si trovassero dieti giusti. Quindi Abramo sa litigare con Dio, ma qui non lo ha fatto. Secondo, il Midrash ci dice, subito dopo questa storia, che la madre di Isacco, Sarà, è morta di dolore quando ha sentito che Abramo aveva sacrificato il loro figlio Isacco. In terzo luogo, il Talmud dice che i patriarchi seguivano la legge ebraica, la halakha, anche prima che la Torah fosse stata data a tutti, perché la Torah dice Abramo ha obbedito alla mia voce e ha osservato ciò che io gli avevo prescritto, i miei comandamenti, le mie istituzioni e le mie leggi. Ebbene, una delle pratiche più ripugnanti, messa al bando dalla halakha, è il sacrificio umano. Quindi Abramo non doveva obbedire perché l'istruzione di Dio era contro la halakha. Ma d'altra parte, il Talmud afferma il diritto di un profeta di sospendere una legge. Quindi, sostengono, anche l'omicidio sarebbe stato consentito ad Abramo, come profeta riconosciuto, se fosse stata davvero la volontà di Dio. In quarto luogo, Dio non parla mai più ad Abramo dopo la chedà. Il rabbino Shlomo Rishkin spiega che ciò è dovuto al fatto che Dio non era contento di Abramo per aver obbedito al suo comando di massacrare Isacco. Dio non può dire ad Abramo che ha fallito la prova perché Abramo stava obbedendo a Dio in primo luogo, ma può pensarlo. In un insegnamento parallelo, i maestri hassidici affermano che la chedà era per punire Abramo per aver maltrattato il figlio maggiore Ismaele e averlo espulso dalla sua famiglia. Poiché Abramo non mostrò compassione per il suo primo figlio, così Dio lo punì, fallendo di mostrare compassione per il suo secondo figlio. Ci sono altre opinioni? Personalmente, penso che Abramo non intendeva mai uccidere suo figlio. All'ultimo momento avrebbe fermato sua mano se Dio non l'avesse fatto. Quindi Abramo, in un certo senso, metteva anche lui Dio alla prova. Dio e Abramo erano impegnati in un braccio di ferro, per così dire. Quali prove abbiamo per questo? Non conosciamo i pensieri di Abramo. La Torah ci rivela solo le sue azioni. E cosa suggeriscono queste azioni? È chiaro che non ha fretta. Si prende il suo tempo. Taglia lentamente il legno. Carica lentamente i suoi animali. Si sposta lentamente verso le montagne. Spera che Dio interverrà. Non intende mai uccidere Isacco. Ecco perché dice ai suoi servi, il ragazzo io adoreremo e torneremo da voi. Un altro punto di vista è che Dio stesso non ha mai avuto intenzione di permettere ad Abramo di sacrificare Isacco. Il libro di Geremia dice, cito, hanno costruito un altare per bruciare nel fuoco i figli e le figlie, cosa che io, Dio, non ho mai comandato e che non mi è mai venuta in testa. Per Rasci, questo significa che Dio disse, non pensate per un momento che io, Dio, abbia avuto l'intenzione di lasciare Abramo uccidere suo figlio. Questo non mi è mai venuto in mente. Il rabbino Ibn Ezra, dalla Spagna del dodicesimo secolo, suggerisce che forse Isacco fu ucciso da Abramo e poi resuscitato. Perché? Perché la Torah dice, poi Abramo tornò dai suoi servi e insieme si misero in cammino verso Bersabea. Quindi Abramo tornò insieme ai giovani che lo accompagnavano. Ma di Isacco non si dice nulla. Dov'era, se non morto? Tuttavia Ibn Ezra stesso rispinge tale opinione. Molte osservazioni approfondite sono state avanzate sull'Akedà. Ecco alcuno di loro. 1. L'Akedà si riferisce in realtà al martirio ebraico. Il popolo ebraico deve essere sempre pronto a rinunciare la vita stessa, le Kiddush Hashem, per la santificazione del nome di Dio. 2. Se metti te stesso o i tuoi figli in pericolo per una causa superiore, per esempio andando in guerra, andando in missione rischiosa, o semplicemente vivendo in una società antisemita, non stai facendo essenzialmente quel che ha fatto Abramo? Il Talmud racconta la storia di una donna che aveva sette figli. Tutti e sette furono torturati a morte piuttosto che inchinarsi a un idolo come comandato. 2. La donna disse al suo ultimo figlio, prima che fosse ucciso, 2. Figlio mio, va a dire al tuo padre Abramo. Hai legato uno dei tuoi figli all'altare, ma io non ho legato, ma io ho legato tutti e sette i miei figli a sette altari, e loro, a differenza di tuo figlio, non sono sopravvissuti. 3. Era questo diverso dell'Akedà? A questo si può rispondere sì, perché vediamo un scopo nel sacrificio. Con Abramo non vediamo uno scopo chiaro. 3. Forse Dio ci mette alla prova continuamente, e questo spiegherebbe il male. Il libro di Giobbe ne parla. Forse la nostra inclinazione al male, il nostro Ietzeharà, è una prova perpetua? 4. Si può dire che Abramo stava solo seguendo gli ordini? È legittimo avere questa attitudine? 5. Come ha fatto Abramo a sapere che era veramente Dio che gli parlava? Come si fa per saperlo? 6. Perché la fede senza prove è tanto importante, quanto ci è stata data una mente, che chiede prove? 7. Maimonide, nella sua Guida dei perplessi dice, cito, Dio ha messo Abramo alla prova. Significa che Dio ha fatto dell'esempio di Abramo una prova degli estremi limiti dell'amore e della paura di Dio. 8. Lo Shofar, o corno di montone, ci ricorda il montone che fu sostituito ad Isacco per il sacrificio. Ecco perché la storia della Kedah viene sempre letta a Rosh Hashanah. 9. I saggi ci dicono che Isacco era un uomo adulto, non un bambino, abbastanza forse da impedire all'anziano Abramo di legarlo, se avesse voluto farlo. Perché non ha resistito? Si noti che questa storia non si chiama la prova di Abramo, ma la legatura di Isacco. Questo significa che dobbiamo concentrarci su Isacco, sul fatto che Isacco aveva accettato il suo destino. 10. E quindi, forse è quest'ultima la lezione della Kedah, accettare le cose cattive dopo aver fatto tutto il possibile per evitarle. Anche se non ne comprendiamo le ragioni, con la fede che è in qualche modo misterioso, non tutto il male viene per nuocere, e andare avanti con le nostre vite per costruire un domani migliore. Shabbat shalom.